Presto, presto, arrivano! Ma che posto è questo? Questo posto è barbiano. Chi è? Per me, eh? Sì. Affine. Beh, almeno ti grazie. Io non ho chiesto nulla. Che vuoi voler da me? Non vogliamo niente. È solo un modo per dirti che siamo contenti che tu sia qui. Che tu sia qui? O come parla questo? Eda! Eh? Eh. Eh, lavorante sta pronto per la stessa è finita e così si resta in buio, eh? Ma domani bisognerà andare in presa per renderne un'altra. Ovi, eh. Io e non via a letto. Buonanotte. Buonanotte, no, no. Buonanotte. Vai, 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 mamma. Appena ho finito di governare, venga insieme. Che c'è? Ho, ho trovato un tordo. Posso tenerlo? Perché te lo chiedi? Tu l'ha trovata, è tua. C'è altro? Sì, le scarpe. E che è successo? Sta per prendere il tordo e la finivano in un fosso perché c'hanno la ferita. Io non ho mai avuto un animale vivo. Perché non hai messo le lecchie a scarpe per la mia ragione, forse? Le scarpe sono mie o no? Sì, certo, sono tue. Però sono anche un pensiero gentile dell'Eda e della nonna. Te le hanno regalate. Va bene, ho capito. Dimmi qual è la punizione e basta. Nessuna punizione. Grazie.